Ciao a tutti, vediamo in questo video la coppia gemelli-vergine in amore. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, questa è una coppia, una combinazione piuttosto rara, governata da Mercurio. La Vergine vive, ha un'intelligenza molto analitica e con posti gemelli invece hanno problemi di approfondimento e concentrazione, per cui la comunicazione tra questa coppia, all'interno di questa coppia non esiste e ci sono pochissime possibilità di un funzionamento positivo, per cui è molto più probabile che la coppia scoppi, diciamo, da questo punto di vista, che anziché possa durare nel tempo. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!